Prossimo alla riapertura il centro di raccolta rifiuti presso l'autoporto di Roseto degli Abruzzi. La regione ha autorizzato il comune per lo stoccaggio lo scorso 7 agosto. Mario Nugnes, primo cittadino del comune Rivierasco, ha espresso la sua soddisfazione sulle pagine del quotidiano Il Centro. Gli uffici stanno completando le procedure amministrative in accordo col gestore per consentire a breve l'apertura del centro di raccolta. La regione, continua il sindaco, lo scorso 7 agosto ha autorizzato l'immissione degli scarichi sul terreno, passaggio necessario per completare l'iter che porterà alla riapertura dell'area. Il centro dunque tornerà operativo a breve anche se ha un anno dal dissequestro. L'amministrazione, prosegue Nugnes, fin dal dissequestro della zona avvenuto nell'agosto dello scorso anno si è messa al lavoro per rimettere l'area nella disponibilità della cittadinanza con lo scopo di ottimizzare il servizio di raccolta dei rifiuti e favorire il conferimento degli ingombranti. La riapertura del centro di raccolta rappresenta un tassello importante nel percorso avviato verso la creazione di una filiera ancora più virtuosa del riciclo. In zona autoporto, oltre al centro già presente, sono in programma altre opere per lo smaltimento dei rifiuti da realizzare con fondi del PNRR. Ci sono 2 milioni di euro per la realizzazione di una composteria di comunità, continua Nugnes, e di un centro di trasferenza. A disposizione, inoltre, anche un milione di euro per la realizzazione di un polo tecnologico per la raccolta dei rifiuti. 3 milioni di euro per la realizzazione di un po' di un polo tecnologico per la realizzazione di un